across the world in these communities get to access the fantastic things that Coda Dojo Allora, programmare vuol dire proprio questo, bravo Pietro, significa che corrispondono dei blocchi con il piede giusto Allora, la prima cosa che vogliamo fare, così mi piace, allora, nella nostra missione spaziale dobbiamo scegliere altri, allora, prendiamo tutti questi blocchi facciamo un pa... stessa cosa, quindi stiamo tutti scoprendo un'Italia bella, un'Italia che ci crede, che crede ancora, ecco... Senti Laura, come stiamo? Siamo nei nostri... A tre, gridiamo scratch, uno, due, tre... Tutta sta roba... Guarda...